Io adesso voglio vedere 500 fotografie di, non so, donne con i seni grandi. Com'è possibile che io guardo l'una, poi l'altra, poi l'altra, poi l'altra, poi l'altra? Pornodipendente all'inizio non lo sa, pensa che sia un fatto del tutto normale. La bestialità che è illegale significa costringere oppure avere rapporti sessuali con degli animali. In macchina mi ricordo che urlavo con un passo, prendevo la macchina e urlavo basta Vincenzo, fai schifo, devi smettere, e correvo, correvo, correvo. Alcuno mi vedeva e diceva questo è pazzo. E in effetti. Vent'anni fa io a un certo punto dissi no, io per lavorare mi serve internet. Prima volta che venne questo tecnico a connettermi con la rete, come il tecnico se n'è andato, ha chiuso la porta, io subito clic, ho cliccato la parola porno. E mi s'apre tutto il mondo. Nella prima volta che mi sono connesso, rimasi tutta la notte a guardare queste cose infinite. 15 anni di masturbazione davanti al monitor. La mia vita era quella. Nel mio centro sono passati migliaia di pazienti pornodipendenti. Il paziente più giovane è stato un paziente di 18 anni. Arrivava anche a una masturbazione di 10-12 volte al giorno. E abbiamo avuto molti pazienti che sono arrivati a 20 ore di visione di sesso online. Io ho iniziato a vedere materiale pornografico all'età di 8 anni. Dopodiché è andato sempre crescendo il piacere nel vedere materiale pornografico, fino a che avevo la possibilità di utilizzare internet, fino ad arrivare a una quantità di all'incirca 40 GB di materiale pornografico. Dallo stupro di gruppo, al chuckled, al gangbang, al bestialità, c'era un po' tutto. La bestialità, che è illegale, significa costringere oppure avere rapporti sessuali con degli animali. È un atto così assurdo da far ribrezzo a maggior parte delle persone. Come anche i tossicodipendenti, anche i pornodipendenti, hanno il continuo bisogno di aumentare la molle di materiale da osservare per ottenere sempre un livello maggiore di eccitamento sperimentando precedenza. Era così forte che comunque appena uscivo per strada di casa utilizzavo tutte le possibilità che mi dava il mondo, che non erano poche, quindi dalla biblioteca, dai fumetti erotici, dall'internet point e senza che me ne rendevo conto, mentre facevo un'attività normalissima, mi ritrovavo in situazioni da film assurdo. Scappare dalla biblioteca perché è citato, ho ancora le immagini fresche in mente, e andarmi a rinchiudere in uno squallido bar per una masturbazione. A un certo punto diventava un tormento. Allora per me l'eagulazione era lo strumento per interrompere questo tormento, eagulando tristissimamente e stando poi male, sentendomi idiota, sentendomi scemo, sentendo, dicendo basta, non lo farò mai più, mai più. Il senso di colpa che ne deriva è altissimo, spesso legato anche a conseguenze quasi tragiche, alle volte, sull'autostima, ansia, depressione, si alternano in continuazione, ci sono tutti i familiari che ne vengono coinvolti, amici, conoscenti, datori di lavoro. La visione prolungata del porno, soprattutto nell'intimità, ti porta ad avere dei cambiamenti, quindi ti porta molto di più all'isolamento, alla depressione, alla rabbia, a scattare per qualsiasi cosa, rabbioso, tutto questo perché è un combattimento esteriore. C'erano periodi in cui non volevo vedere nessuno, giornate che non volevo vedere nessuno, quindi a pensare al suicidio più volte. Non volevo essere questo tipo di persona, tanto voleva farla veniva. C'è un maggior calo di desiderio verso la partner, da fastidio, quasi che ti tocchi o ti solleciti. Noi abbiamo avuto pazienti che erano 3, 4, addirittura 5 anni, in una coppia sposata, che non avevano nessun tipo di rapporto sessuale. Oltre che portare all'impotenza, ci sono anche delle conseguenze, direi, organiche, ed è quella del dolore durante l'eiaculazione nell'uomo. Io avevo una fidanzata, il rapporto con questa fidanzata a un certo punto cominciò ad inclinarsi. Io non avevo erezioni, quando stavo accanto a lei, oltre a non avere erezioni, mi dava proprio fastidio. Ho cominciato a non riuscire ad avere rapporti, umiliando me stesso e lei a livelli inimmaginabili. Il pericolo è che tu mano a mano ti allontani dalla realtà, ti allontani dagli amori, dagli affetti, dalle amicizie, dalle simpatie. Cominci a diventare sempre tristito, arrabbiato con te stesso, prima di tutto. La tendenza a guardare, per esempio, le donne reali, solo come oggettivo pornografico, diventa una vera e propria distorsione mentale. Applicare quello che si vede è uno dei grandi dubbi che spesso assale chi guarda questo materiale, o almeno nel mio caso. Vede uno stupro di persona o addirittura farlo. Se io costantemente provo piacere nel guardarlo, proverei piacere altrettanto nel vederlo nella realtà? E se avessi trovato qualcuno che avrebbe appoggiato questa cosa, forse fare atti molto, molto brutti. L'altro è quello di non riuscirne mai. E quindi che avrei combattuto a vita gli espibranti, diventi più padrone della tua vita. E se è una pornografia che ti controlla. So che molti ridono, perché tutti abbiamo guardato, si dice, ma sì, cosa vuoi che sia? Abbiamo guardato delle immagini, sono divertenti. Certo, va benissimo, ma deve rimanere in questo campo, non andare oltre. Si facevano una risata anche per l'alcol, si facevano una risata anche per il gioco e oggi si fanno una risata per la pornodipendenza. Incredibilmente a un certo punto, per credo tre mesi interrutti. Non guardavo più pornografia e ero felicissimo. E rientravo in tutte le mie capacità, ma non solo sessuali, ma anche psichiche, anche che ricominciavo a lavorare. E poi un giorno ho ricominciato. Stavo bene, bene, bene. E un giorno ho ricominciato. La fase più brutta è quando mi sono reso conto che più volte volevo smettere e non ci riuscivo. E questo nel corso del tempo mi stava portando all'odio completo verso me stesso, al divorzio. Era tutto quanto bloccato perché era tutto interminato dal Sono un pornodipendente, non ne uscirò mai, sono una persona schifosa. Scrivevo sul tavolo, ricordo che non devi guardare pornografia. Mettevo gli scotch sullo schermo, non guardare pornografia. Me lo scrivevo dappertutto, pensando che in qualche modo queste scritte potessero farmi prendere coscienza e invece non seguivano niente. Il mio cervello malato non li vedeva nemmeno. Dalla pornodipendenza forse non si guarisce mai. Si guarisce dal sintomo, ma la dipendenza che sta sotto è molto difficile che si possa guarire. Devi cercare di non ricercarle ancora queste immagini. Potrebbero di nuovo rimettere in moto il meccanismo. L'unica soluzione appunto è impedirmi l'accesso alla droga. Ho tolto la connessione, ho tolto il computer e per lavoro vado a un internet point qua vicino. Cioè l'unico modo di riuscire appunto è impedirsi di entrare in contatto con la pornografia. Perché se no ci si ritorna, non c'è niente da fare. E anche nel caso dell'eroina disintossica la persona. Se dovesse farsi dopo tre volte che si è fatto è già di nuovo dipendente. Non è che dopo che ha visto tre immagini torna ad essere dipendente. Però nel tempo non potrebbe ritornare ad essere pornodipendente. Adesso il mio cervello diciamo si adegua. Guarda, per i settimanali, anche i quotidiani, guardo queste cose, mi masturbo però molto raramente e poi tutto finisce lì. Ormai ho capito che non devo comprare nemmeno i giornali. Uno dei professionisti che tratta questo tipo di dipendenza ha il suo metodo, la sua modalità e si basa soprattutto su consapevolezza prima di tutto, interruzione del comportamento, intervento sia a livello comportamentale, sia a livello psicologico e sia a livello familiare. Quindi i miei primi passi sono stati comunque farmi aiutare da una persona specializzata e cercare di capire che cosa mi spingeva costantemente a fare un'azione che in realtà da una parte non volevo fare. Ci sono stati vari usciti, quindi uno tenere un costante diario perché questo ti permette di capire i pensieri che avevi prima, durante e dopo, per capire che cosa ti ha spinto a vedere materiale pornografico. Un altro passo fondamentale è stata l'ammissione della pornodipendenza, cioè io ho un problema di pornodipendenza. Un'altra quindi è stata anche parlarne oltre che con un terapeuta, ne ho sempre parlato con mia moglie e ritengo che essere corretti e coerenti con le persone che meno si stanno vicino sia la cosa principale, perché se no continuamente avrai una doppia grita. Vito da pornodipendente solitario fino alle tredde notti in piedi e vita da marito ragazzo perfetto, figlio perfetto. E andranno sempre sempre in contrasto quando uno dei due non si autodistruggerà. Ho preferito metterci la faccia perché il problema c'è, esiste, è solamente ammirevole che una persona vuole risolvere i problemi che ha. Io alle persone che si rispecchiano appunto in quello che ho detto dico solamente che non sei da solo. Non sminuire il problema pensando che sia comunque una cosa normale, perché difficilmente è una cosa che va calando, bensì aumenterà nel corso del tempo e rischi di rovinare molte delle cose che invece avresti potuto vivere bene.